Salta l'accordo tra amministrazione comunale e ditta. Gli addetti alla raccolta rifiuti di Belvedere Marittimo sono ancora senza stipendio. Doveva risolversi tutto entro venerdì scorso, ma qualcosa è andato storto. Il Comune non ha pagato le spettanze dovute alla geoambiente relativa al mese di maggio e la società di conseguenza non ha retribuito i lavoratori. L'accordo inoltre prevedeva che con il saldo della fattura di giugno la ditta catanese avrebbe pagato gli altri arretrati ai dipendenti. La vicenda si complica. Dopo le solicitazioni della CGL e lo sciopero degli operatori ecologici la questione deve risolversi tra Comune e Geoambiente. L'amministrazione Granata doveva versare nelle casse dell'azienda catanese poco più di 62 mila euro. Il problema, voluto sottolineare l'assessore comunale Vincenzo Spinelli, è traditta ai dipendenti. La società vanta un credito nei nostri confronti, ma siamo quasi in linea con il pagamento del servizio prestato. In questa settimana verseremo i soldi alla Geoambiente. Ma per Spinelli la questione è poco chiara. A noi risulta precisato che non tutti gli operatori avanzano soldi dalla ditta. Alcuni di questi sono stati assunti a giugno, quindi non hanno maturato nemmeno una mensilità. Protestano per qualcosa che non gli spetta. E la ditta conferma. I dipendenti che avanzano due mensilità sono 19, hanno dichiarato dalla Geoambiente. Gli altri hanno un contratto stagionale. Non possiamo più anticipare gli stipendi. Non appena il Comune di Belvedere salda il debito, nel giro di 48 ore saremo in grado di pagare i lavoratori. Un passo avanti invece è stato fatto dall'Avvenire. Società che si è occupata della raccolta rifiuti a Scalea fino allo scorso giugno. Gli ex dipendenti della ditta barese hanno ricevuto lo stipendio di maggio. Il timore è che la società non chiuda i conti e lasci in sospeso la mensilità di giugno e il trattamento di fine rapporto.